Ciao ragazze, benvenute in un nuovissimo video shopping, così proprio al volo volo visto che c'è una bella giornata, è uscito un po' di sole, ho detto guarda che bella luce facciamo un video alle ragazze e quindi eccomi qua ho la porta aperta, quindi sta entrando tutto il bel sole per modo di dire perché di giorno gira comunque pronti per un nuovo video shopping, proprio super super veloce senza perdere granchi tempo allora vi faccio vedere un po' di cosine dove cominciamo? sono anche in tappottata così non posso provare le cose, è interessante partirei subito con un bel paio di pantaloni che sono appena arrivati di Zara taglia M sono abbastanza leggerini, però li ho voluti lo stesso da proporvi perché mi piacevano tantissimo mi piace un sacco questa trama floreale che in effetti è stata già vista abbastanza ho usato di brand, la propongono e comunque è sempre un classico il pantalone affiorato è sempre diciamo un classico che a me personalmente piace molto quindi ho deciso di proporlo anche a voi è una taglia M quindi siamo su 42-44, anche 44 vista la larghezza appunto del pantalone e ve lo faccio vedere più da vicino le condizioni sono assolutamente perfette ok scusate ragazzi ma c'era un po' di casino nelle macchine e in contempo mi sono spogliata che è forse meglio così se c'è qualche capospala al provo il costo comunque di questi pantaloni è 12 euro, sono in ottime condizioni, sono morbidi i pantaloni sono tipo culotte, belli a vita alta secondo me sono super carini e adesso magari con un maglioncino bianco, un maglioncino beige li potete comunque sfruttare ancora poi vi faccio vedere questo tubino che è tornato in vendita di Elisa Landri e LF bellissimo, tartan, l'avevo proposto già tipo l'anno scorso, mi è tornato in vendita è praticamente una taglia 42, fatto davvero molto molto bene la vedi Elisa Landri fa sempre degli abiti spettacolari qua siamo su 42, ci stiamo dentro alla grande ed è bellissimo oltretutto la lunghezza è midi, quindi appena sotto il ginocchio trovo che nei tubini sia molto elegante questa tipologia di lunghezza tanti li prediligono sopra il ginocchio, però secondo me sono carini anche sotto il ginocchio credo che dovrò chiudere la porta perché ci sono troppi rumori molesti che non mi piacciono ok, vabbè, teniamo la porta chiusa dico mi piace un sacco invece la lunghezza sotto il ginocchio questo tubino qua è in ottime condizioni, perfetto come era arrivato e tornato perché è stato forse messo una volta da quando è stato venduto quindi lo ripropongo e viene 14,90 ottimo anche il prezzo per un abito di Elisa Landri che sapete che ha dei prezzi veramente di vestino abbastanza alti però le cose sono molto molto carine vai, vediamo un po' qualche nuovo arrivo una bella blusa maglia in realtà di Max E.C. che meraviglia questa è una taglia S cioè a memoria cioè a memoria, anche a occhio direi più che a memoria io direi che è una taglia S però abbiamo l'etichetta quindi siamo fantastiche no, è una taglia M però è una taglia M piccola che corrisponde secondo me quasi più a una S guardate che meraviglia è una blusa di Max E.C. originale ovviamente ok ed è fatta in questa maniera qua stupenda con le maniche tipo a palloncino un po' trasparentina vedo non vedo meravigliosa e questa blusa qua ragazzo viene soltanto 19 euro Max E.C. inutile dirvi che si può davvero abbinare a tantissime tipologie di outfit non so, quindi anche a dirvelo ogni volta le stesse cose vi dico poi vi faccio vedere un capo due capi vintage che vendo separati ma si potrebbero anche proporre insieme ora io ho un po' di difficoltà a vederli insieme però mai dire mai si tratta di questo maglioncino super super vintage taglia M perfettamente un 42 che viene 15 euro color ma nocciolino tra il beige e l'arancino guardate che bello di lana super grossa tutto bello lavorato bellissimo in realtà poi abbiamo anche il gilet perché proprio nasce come nasce come gemello e c'è anche il suo gilet non so se funziona che sotto si mette il maglione e sopra il gilet e a sto punto nessun cappotto perché è veramente molto molto pesante o non lo so il gilet comunque viene sempre taglia M viene 14 euro quindi 15 euro 14 euro presi insieme vi faccio lo sconto ragazze 22,50 dopo secondo me vengono usati cioè insieme a 22,50 possono essere usati assolutamente separati sono molto carini con il jeans e uno stivalone marrone ci sta sempre un sacco come abbinamento secondo me poi 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 in taglia S un altro abitino vintage meraviglioso questo qui veniva 18,90 ma avevo deciso di metterlo in sconto a 14 euro guardate che meraviglia taglia S abbastanza morbida la sua collana incorporata tutta così questo macramé è super super grosso tutto foderato all'interno è bellissimo una 40 anche abbastanza morbida questo per esempio vi risolve anche gli outfit se state già pensando all'outfit natalizio l'ultimo dell'anno anche se in questo periodo non è che si farà chissà che però anche a stando in casa comunque essendo carine è fantastico oltretutto si può proporre tantissimo anche con gli anfibi quindi o con outfit un pochino più eleganti o con outfit anche più sportivi bellissimo un giacchino di pelle e queste vestite molto molto bello passiamo a dei Levis taglia 40 guardate che meraviglia questo è un Levis originale ovviamente bello cortino questo aspettate che ve lo faccio vedere ok è super cortino quindi secondo me è strutturato per chi è massimo massimo un metro e sessanta secondo me un metro e cinquantacinque ovviamente poi se no vi sale su verso la caviglia ma è bellissimo la qualità Levis non sto qua neanche a dirvela è 721 vintage high, grise skinny quindi vita alta vintage super skinny dietro così tenuto davvero benissimo e questo qui ragazze viene 27,90 euro per un jeans Levis è veramente una stupidata se siete taglia 40 questo jeans qua se cominciate a provare i Levis oddio se cominciate a provare i Levis e non li avete pensateci perché veramente non ve ne liberate più dei Levis sono dei jeans pazzeschi e tenete conto che nel vintage anche malconci minimo, minimo, minimo che vi sparano è sempre è sempre un cinquantino quindi questo ve lo dico perché girando io lo so tutto so tutto sa questa ragazza tutto, tutto, tutto body vintage sempre in taglia S ve lo faccio vedere perché è super carino le taglie sono assolutamente casuali non è che voglio bene a qualcuno rispetto a qualcun altro questo è un body vintage guardate che meraviglia è in velluto siamo sulla taglia S ma anche morbida secondo me però siamo più sulla S perché non è molto ampio guardate che meraviglia è un body vintage in velluto e viene ragazze 8,90 ma che meraviglia ma che meraviglia cerchiamo anche qualcosa di morbido perché se no le ragazze taglie morbide mi ammazzano giustamente ha ragione non è che lo faccia apposta però dipende cioè dipende che cosa arriva nel senso io non è che posso cioè non sono non sono dentro cioè dipende quello che c'è qua è sposto bellissima punta di verde super acceso per questa gonna vintage taglia 2 secondo me siamo su 42 44 non di più una taglia M guardate che meraviglia vintage perché il brand è vintage plisse verde lunga 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 fino alle famiglie che meraviglia bellissima e questa gonna qua ragazzi viene 13,90 euro una punta di verde molto molto bella non so se rende in video sembra di no però è super 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 carina poi 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 cosa abbiamo qua da farvi vedere il giacchettino vintage anche questo ve lo faccio vedere che è una taglia più una taglia S questo guardate che carino tartan con questo fiocchetto questa rosa scusate molto bello manicozzi così in lana non so la percentuale di lana si è segnalata si che brava bravissima 80% mohair ragazzi attenzione qualità 80% mohair questo giacchino meraviglioso dietro è nero perfetto non ha neanche un pelucchio ovviamente 80% mohair che pelucchio volete che abbia e questo qui ragazzi viene 15 euro prezzo veramente allucinante per quanto riguarda una come si suol dire una una giacca in mohair ci spostiamo di qua perché sono in carenza di taglia morbide ma in realtà mi sto guardando un po' in fondo ma non è che trovi granché quindi non è che io lo faccia apposta però non è che ce ne sono granché di taglie morbide eccola qua una taglia bella morbida allora gonnellina taglia XL tubino questa è carina è bordeaux tutta puntinata così XL quindi bella morbidina siamo su 48 anche morbido verso il 50 stupenda condizioni eccellenti e nuova per cui le condizioni sono perfettissime e questa gonnellina qua ragazze viene soltanto 7,90 euro molto bella stretch da mettere con gli stivali in inverno stupenda un altro pezzo molto interessante in taglia 44 è questa giacca allora il brand è Louis CV europea 40 quindi presumo che sia un 44 in teoria ora la provo è particolare perché è tipo di lana ok la vedete com'è strana e poi ha la zip quindi sono quei capi da boutique secondo me meravigliosi quindi non è il classico cappottino di lanetta così cioè senza infamia né lode è proprio bello questo e avrà anche una percentuale di lana non indifferente 66% lana e ormai ormai si riconoscono da lontano anche senza dover guardare la qualità si riconosce c'è poco da dire quando sono così perfetti la lana è dentro taglia 44 presumo anche un 44 giusto assolutamente sì vediamo l'allacciatura molto particolare sul lato e il colore è anche particolare perché sembra nero ma è una sorta di grigio quasi un grigio antracide antracide antracibale quello lì ok molto carino sì 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 ha un 44 assolutamente molto bello e questo qui ragazza che prezzo che prezzo vi posso fare guardate che meraviglia bellissima ma sia come giacca che anche come cardigan anche su certi abiti o su certe cose smanicate non sapete magari che cosa metterci sopra cioè è fantastico io continuerò a guardarmi i capelli lo so lo so non ditemi niente vi posso fare di questo qua 66% lana un bel 19,90 euro e vi tratto veramente bene 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 lo sapete che vi tratto bambino lo sapete che vi tratto bene senza bisogno di ribadirlo ogni volta però insomma sono quelle cosine proprio particolari che non capitano tutti i giorni cioè non capita tutti i giorni di averla in negozio assolutamente non so se ce la possiamo fare poi vi faccio vedere quel bel bel non ce la farò mai soprattutto quando uno ha fretta non riesce mai a fare un tubo ok e anche qua c'è un sacco di roba interessante ma canterina questa è ora di metterla in saldo taglia S di Zara bianca e nera righe con i fiori e la simmetria adesso va bene anche come sotto cardigan sotto giacca però ecco una cosa prettamente estiva ragazze 4 euro condizioni perfette abbiamo un nomino nudo utilizzeremo dopo per qualcosa vi faccio vedere poi questa sorta di cappottino in felpa quindi un po' sportivetto e questo è di 8 dam molto molto carino siamo sempre sul 44 più o meno come taglia vediamo se vi dice qualcosa all'interno così poi ve lo faccio anche vedere quindi facci vedere qualcosa taglia 42 8 dam 8 dam non so come si pronuncia con la marca qui comunque è un cappottino sportivino verde militare fatto davvero bene guardate solo il polsino così per farvi capire la qualità di una qualcosa di boutique insomma si è un 42 44 3 quarti col cappuccino molto carino per outfit un pochino più casual però ricercati mai casual non ricercato ma sempre assolutamente ricercati anche quando siete sportive è molto molto carino e viene 16 euro ragazze 16 miseri e veramente con 16 euro si va a comprare calza a momenti questo è sì usato in buone condizioni assolutamente nulla da dire e secondo me 16 euro è un buon prezzo ma anche per tutti i giorni se volete un outfit un pochino più sportivo no non ce la farò mai no perché mi piace riabbottonarli perché mi dispiace poi che magari viene qualcuno e vede che sono tutti messi così ci tengo un po' al fatto che siano carini e presentabili più di quello che sembri in realtà assolutamente passiamo a quello che volevo farvi vedere che è questo blazer ma che meraviglia in velluto doppio petto tra l'altro cioè è incredibile ma vero è di pink ma non perché è incredibile cioè sembra vintage da quanto è bello pensate che io ho un tagliore moschino che è praticamente così un po' più scuro in vellutino fantastico questo è doppio petto ma cioè non sembra proprio se togliessero l'etichetta e tipo mi dicono ma che brand è io direi un brand vintage super lussuoso è una taglia M ed è di pink ed è un blazer bordeaux anche perché è tipo in velluto quindi non è la solita cimiglia che dici sembra proprio quel velluto di una volta allora taglia M doppio petto è una M assolutamente perfetta di pink ora lasciate perdere così che non si azzecca comunque è stupendo 42-44 va benissimo ragazze doppio petto e questo blazer qua viene 19,90 euro è davvero particolare unico in condizioni assolutamente eccellenti ora non vi so dire la collezione ma è sicuramente o è una collezione recente oppure è stato preso in qualche mercatino ed è un po' più datato ma comunque resta meraviglioso ragazze è stupendo questo veramente parola di baule stupendo ma davvero proprio carino sono esterefatta da tanta bellezza passiamo ad una gonna tubino 80% lana qua siamo sempre su livelli veramente medio alti di qualità guardate che bella siamo su 42 più o meno come taglia a vederlo così a occhio ed è tutta di lana gessata bellissima midi tipo come stile Carla Gozzi questa è proprio stile Carla Gozzi con tutti i bottoncini sul fondo guardate che meraviglia e questa qui di 80% lana ragazze viene 20 euro un capo che con un maglioncino bianco sopra che meraviglia cioè fantastico poi vado avanti se c'era qualcosina da percorri cercavo qualcosa di morbido non c'è un tubo dai facciamo vedere questa qua di Luisa Viola che è una sorta di abito maximaglia qua siamo sulla taglia L guardate che meraviglia io direi più abito però potete usarla anche con sotto l'Ellience perché no meraviglioso con questa collana incorporata in super promozione di Luisa Viola quindi sappiamo comunque anche qua una sorta di Lisa Landri taglia morbida più o meno il livello è quello forse anche qualcosina in più Luisa Viola però per me siamo lì a dire il vero e questa qua ragazza è in promozione a 8,90 euro taglia L bellissima assolutamente fantastica poi 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 che vi posso far vedere sono sempre molto indecisa magliancini pelusciosi anche questi so che vi piacciono molto quindi ve li propongo allora questi sono in taglia unica ce l'abbiamo nero e marrone in serie vi faccio vedere quello marroncino perché si vede meglio sono praticamente a 8 euro l'uno e sono super super carini morbidosi pelusciosi super super carini taglia unica passiamo ad un capo in pelle invece che è questo blazer di Bata di Bata me lo sono inventata adesso no di Stefanelli scusate taglia 46 non so perché ne avevo uno di Bata simile sto male allora è di Stefanelli in vera pelle e segna che è una taglia 46 è un blazer tutto in pelle ora scopriamo insieme l'entità di questa taglia 46 un pochino fa zullina perché questa non è una 46 Ciccasse del mondo è un 44 secondo me è un 44 anche morbido super super carina guardate che belle rifiniture che ha tutta completamente in pelle e questo blazer tutto completamente in pelle vai Stefanel vintage ovviamente oddio sono rimasta incastrata con la mia stessa etichetta ragazze ve lo metto a 22 euro e 90 centesimi una giacca di pelle è introvabile a questo prezzo qua lo sapete comunque quindi non sto qui a ripeterlo un'altra volta abitino particolare anche questo sono tutti incastrati ma una cosa pazzesca quella allora vediamo un po' se riesco a farvelo vedere scusate ma sto traffitando un po' faccio vedere un bel maglioncino della Tezenis anche questo che resta qui sempre nel limbo da solo e nascosto nero con la scritta love condizioni perfette pari al nuovo la taglia penso che sia una ml è bello lunghetto quindi copre bene tutto quello che deve coprire potrebbe essere una L taglia L ma va bene anche M perché comunque elasticizzato eccetera eccetera condizioni sono perfette e viene 8 euro ragazze by Tezenis poi 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 voglio spostare a cercare qualcosa in taglia morbida ma faccio vedere questo capostalla di Zara taglia M è una specie di golf al cappottino ora lo provo così facciamo prima perché altrimenti non si capisce e anche il cappuccino allora è una M morbida assolutamente perché sono quelli super super morbidi e doppio petto anche lui col cappuccio che particolare che è super super cappuccioso da avvolgere e da avvolgere come giacca maxi cardigan super bello con le tasche tra l'altro 3 quarti viene giù anche il più lunghetto con aspettate che vi faccio vedere allora viene giù anche il più lunghetto con le punte ok avete visto e questo qui ragazze viene 18 euro e 50 ottimo anche il prezzo vi faccio vedere poi ragazze l'ultimo capo di oggi che è questo abitino qua super super carino morbidissimo taglia L di questa marca qua Eclay che viene ripresa anche dietro quindi da boutique ve lo faccio vedere perché è una linea molto bella spero si veda tutto drappeggiato nei punti critici anche nella parte dietro guardate super super carino qua siamo sulla taglia L secondo me 46 44 morbida anche verso 46-48 ci sta alla grande e viene soltanto ragazze 10 euro e 90 centesimi quindi prezzo fantastico spero che questo video vi sia piaciuto vi saluto poi se mai organizziamo uno svuota tutto adesso valuto un attimino le tempistiche ci vediamo nel prossimo ciao fatemi sapere nei commenti ci vediamo